Ciao, bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come Le anticipazioni di Tempesta d'Amore ci svelano un riavvicinamento tra Florian e Maya Cosa accadrà ai due protagonisti della soap tedesca? Florian e Maya sono i protagonisti della stagione in corso di Tempesta d'Amore Vediamo insieme che cosa accadrà a loro nelle prossime puntate, che andranno in onda tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle 19.55 Gli ostacoli e le vicissitudini che sono accadute ai due giovani protagonisti di Tempesta d'Amore sono ancora presenti I due ragazzi al momento sono divisi e tra loro c'è anche qualche bugia Nelle puntate che stiamo vedendo in onda in questo momento Florian comincerà ad assumere gli antibiotici per curare la sua malattia rara Fodt era apparso disperato e convinto di morire, ma con l'assunzione dei farmaci le cose miglioreranno Nessuno sa credeva davvero che Florian potesse salvarsi, invece giorno dopo giorno il giovane si sentirà meglio La malattia di Florian ha determinato molte scelte disastrose che hanno contribuito a tenere separati lui e Maya Vediamo insieme che cosa cambierà nelle prossime puntate.Oll'Hotel Furstehoff ci sarà parecchio trambusto Robert scoprirà di essere il fratellastro di Cornelia, a causa della relazione di Werner con la madre di Lia Il giovane cuoco sarà disorientato e deciderà di lasciare l'hotel Nel frattempo ci sarà un entusiasmo generale soprattutto da parte di Eric e Maya che vedranno i miglioramenti di Florian giorno dopo giorno Il ragazzo si renderà conto che non c'è più motivo di stare lontano dalla sua amata, ma le cose non saranno così semplici Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie Ciao e ci vediamo nei prossimi video Grazie per aver guardato il video Grazie per aver guardato il video Grazie per aver guardato il video